ciao sono aquila detto visione buongiorno a tutti voi allora eccomi qua e buona giornata e buona serata è buona giornata è buona serata ok beh come va e così beh la farina che uso io è particolare non è la farina che pensavo ok ok beh ciao a tutti e buona giornata